vai vieni fai di culo aspetta no deve saltare su e buttare e andare subito appena sale subito deve andare ce la fai? è dalla parte sbagliata non ho sentito ma è anche dalla parte sbagliata vai fulvio merda come va a prendere in corsa così? puttana ha capottato no 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 no